Shopping, musica, intrattenimento ed una grande causa comune attorno alla quale mobilitarsi, una raccolta fondi per i bambini ucraini in fuga dalla guerra. È così pronta a tornare ed illuminare il centro storico Aretino, dopo due anni di stop, la Gold Night di Confcommercio, dedicata a buyer ed espositori di Oro Arezzo. Intorno alla Fede dell'Oro c'è costruito un evento che coinvolge non solo gli operatori ma tutta la città. La città si presta a questo tipo di iniziative, la città è piena di gente, piena di turisti. Facciamo sì che questa sia una festa non solo del settore ma della città intera. Quindi sabato 7 maggio, negozi aperti sino alle 21, animazione ed eventi musicali in cinque aree della città. La città deve vivere in questo momento, quindi insieme a Confcommercio abbiamo cercato di dare un risvolto un po' particolare. E quindi la città sarà piena di musica, piena di gente, speriamo, negozi aperti, speriamo, fino a una certa ora. E cercare di far capire che la fiera di Oro Arezzo e la manifestazione che riguarda il compatto Oro-Aretino è veramente molto importante e tutti quanti bisogna essere partecipi in qualche modo. Questa è la vera scommessa. Quest'anno, infine, la grande festa avvedrà la partnership di Save the Children. Abbiamo fatto appositamente per questo evento un QR dove la gente potrà tranquillamente cliccare e donare. Per cui insomma noi ci auguriamo che come sempre Arezzo risponda in maniera positiva a questo evento sia in termini di partecipazione ma soprattutto in termini anche di donazione per questo evento.